È proseguito il confronto in Abbi per il rinnovo del contratto nazionale del credito. Il tema di oggi era l'area contrattuale. Masi, l'Abi che cosa vi ha proposto? Oggi l'Abi ha fatto una proposta diversa da quella del novembre scorso. Intanto riepiloghiamo un attimo quella del novembre scorso, tanto per inquadrare l'argomento e per vedere anche quali sono le novità. Abbi nel novembre scorso aveva presentato una proposta che andava completamente a deregolamentare l'area contrattuale, dando la possibilità di appaltare, di fare cessione di rama d'azienda in modo indiscriminato. E, tanto per ricordare soltanto un fatto, proponeva per quanto riguarda nelle filiali la figura anche del promotore finanziario. Quindi una proposta, quella di novembre, che noi abbiamo giudicato irricevibile e nemmeno proponibile. Oggi l'Abi ha riproposto invece una proposta che tende soltanto a introdurre qualche modifica nelle alcuni aspetti fondamentali che per loro hanno come centro di costo. Cioè i servizi per quanto riguarda l'information technology, per quanto riguarda le carte di credito e per quanto riguarda la possibilità quindi di applicare contratti complementari ai nuovi lavoratori assunti in questi settori. Quindi è una proposta che non ci soddisfa, ma che comunque è diversa rispetto al passato. E la UICA come si pone rispetto a questa proposta? Noi abbiamo detto che, tanto che questa proposta non ci può andare bene perché, intanto, non risponde alle nostre domande che avevamo fatte sul rinnovo del contratto. Noi abbiamo chiesto che ci fosse una maggiore contrattazione, una maggiore possibilità di intervento nel sindacato, soprattutto sull'Ignuco, soprattutto sull'accessione dei rami d'azienda, soprattutto sui piani industriali. E su questo Abbie non ha dato nessun tipo di risposta. Io ho fatto una provocazione Abbie, che poi non è tanto una provocazione, ma è una cosa sul quale ci credo davvero. Noi dobbiamo, l'unico modo per tenere un raccordo fermo, stretto, reale, fra area contrattuale e occupazione, è quella dell'insourcing. Cioè quello di riportare lavorazioni all'interno dell'area contrattuale, dell'interno del contratto di bancari, che negli anni scorsi sono usciti, sono stati affidati a lavoratrici, lavoratori con altri contratti e che oggi credo che la vera sfida sia quello di riportare dentro il nostro settore queste lavorazioni. Anche su questo Abbie non ha dato risposte, quindi credo che il nostro giudizio può essere solamente negativo, proprio perché manca la vera aspetto, il vero sentimento di questo contratto, ancora una volta si privilegia il risparmio sui costi, che piuttosto che dare un'opportunità al lavoratore e lavoratrice di poter crescere. Nel tuo intervento poi hai anche ricordato che il 7 marzo scorso è di fatto applicabile il decreto legislativo sulla conciliazione dei tempi di vita e lavoro e hai soccitato Abbie a trattare anche di questi importanti temi contenuti nell'area contrattuale. È vero, due riunioni fa quando avevo introdotto in nome di tutte le organizzazioni sindacali il problema delle azioni positive, delle azioni sociali da mettere nel contratto, avevamo parlato anche che questo aspetto delle conciliazioni del tempo di vita e congetti parentali erano aspetti che in quel momento non trattavamo perché aspettavamo il Jobs Act ma che dovevano essere inseriti. È chiaro che è stata un po' una provocazione la mia perché naturalmente sappiamo che c'è una legge che parla di questi argomenti ma il mio scopo è quello di andare oltre, di avere la possibilità di andare oltre a quello che la nuova legge dice perché credo che la conciliazione dei tempi di vita non sia soltanto un problema come diceva Profumo oggi per le donne ma per tutte le persone, per tutti i lavoratori e lavoratrici di questo settore. Oggi ci sono strumenti che possono consentire a tutti di lavorare meglio di lavorare con meno pressione. Oggi il tema delle pressioni commerciali, il tema del come stare in azienda è quanto mai attuale. Ecco perché noi dobbiamo dare risposte anche su questi argomenti. Hai chiuso il tuo intervento dicendo che non accetti ricatti circa la scadenza del 31 marzo. È vero, io non accetto di fare, l'ho detto già più volte e credo che i nostri ascoltatori che seguono queste interviste l'hanno già seguito più volte. Io non accetto di fare tradattive con il pendolo che batte e che rintuoni i secondi. Una tradattiva per il nuovo contratto è una cosa seria che deve essere ponderata perché qui trattiamo non soltanto il futuro di 309 mila lavoratori bancari ma anche la possibilità del futuro di altri lavoratori che aspettano con ansia che ci sia una svolta nel nostro contratto nazionale. Allora qui noi non possiamo fare una tradattiva a scadenza, ma andremo a fare una tradattiva seria e più approfondita. Quindi Abbi ha dislettato l'incontro del 13 marzo, bene ha fatto altre proposte che attorno all'ultima settimana di marzo. Credo che in quelle riunioni si vedrà davvero se c'è la volontà di fare un contratto e di farlo seriamente, ma anche se occorressero dieci giorni in più credo che non ci dovrebbero essere problemi, almeno questo è il nostro spirito perché noi vogliamo fare un contratto ma che sia una cosa seria e non soltanto una cosa raffazzonata per dire che abbiamo fatto qualcosa. Allora ci rivediamo ai termini dei prossimi incontri che vi ricordo sono già fissati per il 23, 24, 25 marzo e 30 e 31 marzo.